Siamo qui a Courmayeur per l'ultima tappa d'Italian Bike Cup, con una bellissima vista del Monte Bianco. È un percorso molto duro e molto tecnico anche, soprattutto la seconda parte nel bosco. La prima invece è un po' più scorrevole nel prato. Devo difendere la maglia da leader, sarà dura perché le avversarie sono tante, come Giorgia Marchette, Eva Lechner, ma ci proverò a tramettere tutta e sempre con tanto divertimento cercherò di fare una bella gara.